Musica Inaugurata la nuova pista di Schirol dell'Università dell'Insubria al campus di Bizzogzero. Si compone di due anelli, uno da 550 metri e l'altro da 100 metri, caratterizzati da ondulazioni e curve che richiamano le difficoltà generalmente proposte dalle piste innevate dello scino ordico. È sicuramente uno sport molto completo, infatti abbiamo l'utilizzo importante sia della parte superiore del corpo, quindi delle braccia e del tronco, e degli arti inferiori, quindi le gambe, e il sistema cardiocircolatorio aerobico è molto stimolato. Molto soddisfatto il rettore dell'Ateneo. È un momento sicuramente importante da un punto di vista aggregativo, ma anche da un punto di vista sociale. Non dimentichiamoci le ricadute positive che lo sport ha sulla salute, naturalmente questo ci aiuta molto nel continuare in questo genere di iniziative. Il progetto è firmato dall'architetto Matteo Zan e i lavori sono stati eseguiti dall'ufficio tecnico dell'Ateneo. Un altro investimento sportivo, di cui dobbiamo ringraziare il CUS, dobbiamo ringraziare l'università nel territorio di Varese per praticare uno sport molto bello, molto divertente e molto formativo. Dall'amministrazione comunale un pensiero alla pista di sci di fondo di Brinzio. Sfortunatamente per un impianto che apre ce n'è un altro che sta per chiudere. In campo contro la criminalità e per la solidarietà affinché le nuove generazioni imbocchino la strada giusta rifiutando quello che Paolo Borsellino chiamò il puzzo del compromesso, preferendo il fresco profumo della libertà che a Varese, terra di volontariato, sfocia nel vivace e diffuso terzo settore e la partita tra magistrati e vecchie glorie bianco-rosse in programma allo Stadio Osso del 20 maggio sosterà grazie ai fondi raccolti. Dopo l'edizione dello scorso anno con tanti giovani, tanti partecipanti a quell'evento vogliamo ripeterlo attraverso un allargamento delle associazioni che partecipano a questa iniziativa. La giornata partirà la mattina con un incontro rivolto ai più giovani. Ricavato del match dedicato ai giudici Falcone Borsellino andrà a beneficio di Fondazione Ascoli, Vivere a Colori e Arcobaleno di Nichi. È un messaggio che parte dai concetti che ci hanno dato due grandi magistrate come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e finalizzato a promuovere messaggi di legalità, soprattutto nei più giovani, grazie al convegno con gli studenti delle scuole della provincia di Varese al mattino e sostenere anche le associazioni che supportano l'evento con una partita benefica amichevole al pomeriggio. Non riesce il miracolo, il città di Varese perde con demerito la gara di play-out a karate-brianza e retrocede in eccellenza. 300 tifosi bianco-rossi in trasferta per sostenere la squadra di Porro che affronta quella dell'ex Giuliano Melosi. La Folgore mantiene l'iniziativa per quasi tutta la partita, nonostante basti il pareggio per mantenere la categoria. Liberati ci prova subito al ventiquattresimo, priori attento e non ha grosse difficoltà a rispingere neppure la punizione ancora di Liberati. Il primo tempo finisce senza reti, con poche emozioni e nessun segnale di Varese. Chi si aspetta una ripresa diversa da parte della squadra di Porro rimane deluso. Bianco-rossi riescono solo a guadagnare qualche angolo. L'evanescente Pastore lascia il posto alla punta Ferrario ma il risultato non cambia. La sua incisività offensiva non si sente, come accaduto nel corso della stagione, così anche il secondo tempo si chiude senza gol. Nei supplementari vince chi ha più voglia. La Karatese sembra avere più fiato di idee, in una parola sola più voglia. Potrebbe accontentarsi del pareggio, invece continua ad attaccare. Priori si salva come può, ma è costretto a capitolare, al minuto 5 del secondo tempo supplementare. Ika di testa porta in vantaggio i padroni di casa. Calacoci fa il 2-0 negli ultimi secondi ed esplode la gioia dei tifosi di casa. Quegli ospiti abbracciano Porro e i giocatori, contestano il presidente ammirante e la società. La partita della vita per Karatese e Varese comincia con abbondante ritardo. Le porte risultano più basse del dovuto e l'arbitro Zoppi di Firenze è costretto ad aspettare l'intervento degli addetti al campo che si mettono al lavoro con pale e vanghe per scavare tra i pali. Situazione che richiama il derby di Vigiu tra Varese e Legnano della stagione 18-19. All'epoca furono gli stessi giocatori bianco-rossi ad operarsi per abbassare la porta e Legnano si impose 2-0. Il città di Varese ha presentato ricorso in merito al regolare svolgimento dell'incontro dopo la riserva scritta all'arbitro. Reclamo al giudice sportivo con la richiesta di non omologazione del risultato. La decisione è attesa entro le ore 12 di martedì 16 maggio. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dal città di Varese relativo alla richiesta di bianco-rossi di ottenere la vittoria a tavolino sulla folgore caratese dopo la gara di domenica che ha sancito la salvezza di Brianzoli. Il tema della diatriba riguardava l'altezza delle porte dello stadio di karate Brianza ritenute non a norma e successivamente dalla larghezza delle linee di porta a seguito della nuova tracciatura del terreno di gioco dopo che i dirigenti della folgore avevano provveduto a scavare il campo per renderlo a norma. Un provvedimento che di fatto ribadisce il risultato del campo 2-0 in favore della formazione dell'ex Giuliano Melosi ma che non spaventa i bianco-rossi. Di fatto il giudice sportivo ha ascoltato il direttore di gara il quale ha affermato di aver dato il via all'incontro dopo 25 minuti dall'inizio previsto constatando che l'altezza delle porte era tornata di 2,44 metri. Ma ora il città di Varese può presentare nuovamente il ricorso alla corte d'appello ed è proprio a quest'ultima che si era rivolto anche il Grosseto tenendo il 3-0 tavolino. La partita tra folgore caratese e città di Varese non si è ancora conclusa e giovedì forse potrebbe arrivare il risultato finale. Grande successo per la dodicesima edizione del premio Varese Sport di ieri sera al MIV di Varese. Il consueto appuntamento di fine stagione condotto dal direttore Michele Marocco con il capitano della pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero in veste di co-conduttore. Ha celebrato le società dilettantistiche vincitrici dei rispettivi campionati con la consegna delle panchine d'oro ai migliori mister e dei palloni d'oro ai top player di categoria. Tanti gli ospiti che hanno interagito sul palco tra cui il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi che ha suggellato una volta di più il matrimonio tra l'emittente televisiva e la testata online. È stato suggellato questo accordo con Rete 55 e la testata Varese Sport. Rete 55 è in rampa di lancio con un nuovo editore che è Pietro Albertalli che è qui con me e con un nuovo progetto editoriale che gioca a Bet TV diretto dall'amico Vito Romaniello che ha fatto un po' i buoni uffici diciamo così per questa partnership che aiuterà a raccontare ancora di più ancora meglio in maniera ancora più pervasiva lo sport varesino. Sinergia che permetterà di dare ancora più visibilità a tutto lo sport varesino. Riconoscimenti speciali per Stefania Bardelli giornalista che ha scritto il libro dedicato a Luigi Ganna 40,405 per il Varese Basketball culla dello sport per i Mastini Varese reduci dal doblete campionato Coppa Italia e infine per Alessio Dionisi. L'attuale allenatore del Sassuolo in Serie A è stato una colonna difensiva del Varese Calcio tra il 2005 e il 2007 e ha intrattenuto la platea raccontando la sua carriera con semplicità e spontaneità. Foto di rito e sorrisi finali per chiudere nel migliore dei modi la dodicesima edizione del premio Varese Sport tornato finalmente a pieno regime dopo due edizioni ridotte per il Covid. Varese Basketball è stata premiata come società culla dello sport in occasione della dodicesima edizione del premio Varese Sport un riconoscimento al gran lavoro di Max Ferraiolo che da giocatore ha indossato le maglie di tutte e due le società responsabili del progetto. Grande soddisfazione sicuramente nel ricevere questo riconoscimento parlo naturalmente a nome sia della parte pallacanestro Varese che parte Robur ma come dice bene uno dei nostri hashtag WeAreOne per cui assolutamente in questo momento noi siamo Varese Basketball. Abbiamo fatto tanto, siamo partiti in ritardo con i tempi canonici della programmazione di una stagione perché il raggiungimento e la firma di questo accordo hanno richiesto comunque del tempo perché era giusto fare le cose per bene ma poi siamo partiti e devo dire che siamo molto soddisfatti di questo primo anno perché tutti i nostri giovani sono migliorati e alcuni di loro, pur giovanissimi, sono stati addirittura protagonisti nel campionato di Serie B. Questo è un po' il nostro obiettivo fare sì che ogni ragazzo possa davvero giocare al massimo livello di quello che può fare conservando ed amando Varese Basketball anche una volta che magari avranno finito di giocare. Tre giorni di gare con 700 canottieri e 30 nazioni partecipanti Varese si conferma capitale del Remo e attende il grande evento tra il 16 e 18 giugno. Sarà la seconda tappa di Coppa del Mondo con atleti di primissimo piano così come le ambizioni di chi punta alle Olimpiadi di Parigi 24. L'organizzazione aspetta a braccia aperte un giovane esercito di volontari ragazzi di almeno 14 anni che vogliano misurarsi con un'esperienza carica di fascino dialogo, lingue straniere e grande sport. Dulcis in fundo, gli atleti paralimpici un centinaio dei quali affronterà lo stesso tracciato dei professionisti nel nome di una manifestazione planetaria almeno quanto inclusiva. Sarà veramente un tre giorni di spettacolo di gare di altissimo livello dove gli equipaggi migliori delle migliori nazionali di tutto il mondo daranno vita a uno spettacolo fantastico qui alla schiranga sulle acque del lago di Varese. Il verdetto del campo potrebbe essere sovvertito a tavolino. La retrocessione del Varese avvenuta a Carate Brianza dopo la sconfitta per 2-0 nei supplementari dello spareggio Salvezza è in sospeso fino alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello. Il presidente del città di Varese Stefano Amirante si è affidato all'avvocato Mattia Grassani lo stesso che ha assistito il Grosseto e che ai piedi del Sacromonte sembra portare davvero bene visto che fu lui a presentare la domanda di ripescaggio nel 2005 ottenendo la serie D per meriti sportivi del Varese 1910 arrivato secondo in eccellenza. Presentata una documentazione videofotografica sulle porte dello stadio 25 Aprile ritenute troppo basse e gli scavi effettuati per consentire lo svolgimento della partita. Due ex biancorossi che domenica si sono trovati sul fronte opposto commentano così queste ore di attesa abbiamo fatto tutto quello che potevamo e che ci è stato chiesto dall'arbitro il quale ha misurato le porte prima e dopo ha detto il direttore sportivo Mauro Borghetti non si tratta del Varese o di un'altra squadra la speranza è che quello fatto sul campo sia confermato anche in appello io sono sereno quello che sta accadendo non riguarda e non dipende da me purtroppo fa da Ico l'allenatore della Folgore Giuliano Melosi io e i miei ragazzi abbiamo fatto quello che dovevamo ancora deluso Gianluca Porro tecnico del Varese è normale che una società percorra questa strada consentita dalle regole sarei felice per la piazza ma non basta cancellare l'amarezza di quanto avvenuto sul campo giocatori di hockey e pattinatori atleti del curling professionisti e talenti paralimpici la 5 Ice Arena si illumina per una serata conviviale di feste e di incontro organizzata da quel panathlon che ha associato il proprio marchio alla cultura sportiva alla capacità di caratterizzare l'identità di un territorio con una vocazione virtuosamente competitiva e se mister Ghiaccio Matteo Cesarini si sofferma sulla crescente centralità di un impianto nuovo e sempre più gettonato da atleti e squadre provenienti dall'Italia e dall'estero Daniela Colonna Preti Pola Varese pone in risalto il valore aggiunto del nuovo palazzetto nell'attività paralimpica il presidente regionale del Welfare Emanuele Monti insiste nella dimensione inclusiva di uno sport a misura di famiglia mentre l'assessore Varesino Stefano Malerba scommette sul ruolo che l'Ice Arena si guadagnerà in vista di Milano Cortina insomma una bella serata di sport per una Varese che procede in scioltezza verso l'appuntamento mondiale Al palazzetto Taka a Cassano Magnaco il quarto memorial di Nippon Camp dedicato a Franco Gnocchi un evento speciale un evento internazionale Ci saranno varie delegazioni dal Giappone al Messico la Spagna la Francia una rappresentanza ucraina chiaramente non parteciperanno i russi il memorial inizierà sabato con i bambini che partono dai 5 anni fino ai 14 anni mentre nel pomeriggio parteciperanno le squadre la squadra è composta da 4 uomini e una donna mentre la domenica ci saranno i ragazzi al mattino fino ai 18 anni e poi nel pomeriggio c'è la competizione vera e propria con tutte le nazioni Da chi è rappresentata la squadra italiana? Dall'Ovallo che è comunque un ottimo un ottimo combattente è stato tra i migliori in Europa si è distinto in Russia e comunque in Giappone è sempre stato molto bravo tutte le nazioni hanno fatto comunque le selezioni come abbiamo fatto noi e soprattutto arrivano i più forti dal Giappone atleti veramente preparati sarà molto dura ma ce la metteremo tutta questi tre anni sicuramente sono stati tre anni particolari ogni anno per una peculiarità quindi il primo anno è stato un po' una rincorsa perché sono stato coinvolto dai fondatori in città di Varese quando si è visto che grazie purtroppo a Covid si è aperta questa opportunità di prendere questo titolo sportivo di Serie D quindi il primo anno è stato proprio un anno di estrema costruzione e rincorsa quindi saltare da una terza categoria a una Serie D sicuramente è stato un salto importante e ci siamo fra virgoletti dovuti un attimino strutturare il secondo anno ci siamo strutturati un po' di più e abbiamo fatto anche relativamente bene perché poi siamo arrivati in maniera secondo me anche abbastanza fortuita a conquistare la finale playoff che vista oggi probabilmente è stato più un danno che un guadagno perché secondo me quella vittoria nei playoff ci ha fra virgolette un po' montato la testa se vogliamo usare un termine un po' più da bar e su quella vittoria è stato fatto un piano quest'anno dove posso dire che è stato sbagliato quasi tutto perché comunque non c'è da nascondersi quest'anno abbiamo sbagliato quasi tutto quello che si poteva sbagliare e risultati purtroppo si sono visti a che è stato sbagliato a